buongiorno a tutti da alessio martinelli del team martinelli remaster la polare oggi vi portiamo a cella mare un piccolo paesino di 6.000 abitanti a pochi chilometri da bari e quello che vi mostreremo è un appartamento in bifamiliare di tre vani con terrazzo di proprietà e un comodo box auto seguiteci ben arrivati ora saliamo al primo piano e scopriamo insieme questa bellissima casa this love is you i wish that it was different don't know what it is that made us so indifferent we're drifting in the dark can we do better wish i could rewind back to the start can we do better than this better you got me hide and drop me love you got me hide and drop me love you got me hide and drop me love a completare questa fantastica casa abbiamo questo terrazzo di esclusiva proprietà di oltre 90 metri quadrati dove potete godere di fantastiche serate stile con i vostri amici e parenti in più almeno uno abbiamo di proprietà un box auto di 25 metri quadrati insomma non manca veramente nulla dovete solo chiamarci ciao ciao ciao